amici del canale ben ritrovati questa mattina siamo nelle fasi iniziali dell'alba il mare eccezionale c'è appena un po di nuvolo una leggera brezza di tramontana facciamo qualche lancio speriamo bene e mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale grandi parto con lo zoro 120 bianco il mare stamattina è fantastico ci ha provato ci ha provato ragazzuoli ci ha provato eccolo eccolo qua ragazzi eccolo 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 qua questa sia un zerracchiotto veramente piccolo o una leccia una bella lecciotta signori una bella una bella leccia bagniamo la mano bagniamo la mano e la liberiamo la liberiamo subito signori mi raccomando è bellissima abbiate cura di questi pesci eccola qui signori è stupenda gli ridiamo immediatamente la libertà mi raccomando rispettiamo questi pesci signori che diventano giganti eccola qui è andata voglio provare due lanci con il gig giugolo wide 15 grammi qui perché non fare due lanci a popper? GoPro acquisisci Eccola qua signori sul popper penso sia un'altra leccia un'altra lecciotta o serra non lo vedo serra questo è serra preso un po' maluccio no altra leccia altra leccia signori sul popper provvediamo subito a liberarla Eccola qui Eccola qui signori Eccola qui una bella leccia anche questa sul popper la liberiamo subito 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 Eccola qui Bella 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 signori che pesce maestoso che pesce maestoso che pesce maestoso gli vediamo subito la libertà Eccola qua e il popper va a segno signori Eccola qui Eccola qua Eccola qua di nuovo signori un'altra bella leccia sempre sul popper sempre sul popper oh oh un'altra bella leccia signori questa è di taglia eh e la liberiamo mi raccomando signori abbiamo cura di questi pesci fermo 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 Eccola qui questo popper oggi sta regalando tante belle catture tante belle catture tante belle catture eccola qua eccola qui praticamente la liberiamo una bella lecciotta ragazzi oggi sono veramente belle eh ormai siamo quasi in metà settembre vai bella vai guarda c'è la dietro eccola eccola qua eccola qua eccola qua eccola qua una bella leccia questa l'ho presa male ma sempre pesce è presa un po' maluccio ferma 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 eccola qua ciao ormai sono le otto e mezza passate si è fermato un po' tutto allora carissimi amici la sessione finisce devo dire mattinata molto molto divertente c'era una buona presenza di lecce amia e l'ho visto da subito e poi alla fine ho deciso infatti di di provare con il popper e mi ha regalato diverse catture è stato divertentissimo pesci rilasciati che dire ragazzi ci vediamo alla prossima ciao